addio addio cinzi addio noi ci dobbiamo lasciare è tutto vero regà è tutto vero perché il calcio mercato sta per terminare oggi è l'ultimo giorno ma io vi invito a lasciare 3500 mi piace su questo video entro la mezzanotte se volete quando riaprirà il calcio mercato la nuova serie di una cosa regà però chiudiamo col botto chiudiamo col botto perché ci sono tante tante bombe di calcio mercato anche quest'oggi quindi chiudiamo in bellezza detto questo iscrivetevi attivate la campanella fa la stessa cosa il primo canale youtube scusate se ho il capello un po so perché un po sbarazzino tifosi degli uve inter milan napoli lazio roma e procaccolese scuregettese ce ne stanno veramente tantissime partiamo dal calcio mercato estero e poi come sempre ci spostiamo alle situazioni un po più spisellanti allora ve ne dico una bella grossa anzi no prima una un pochino più piccola cutrone è praticamente un nuovo calciatore del valenza quindi valenza che continua ad acquistare insomma calciatori italiani diciamo che l'operazione dovrebbe essere in prestito da quello che ho capito fino alla fine della stagione e poi dio vede provvede e va bene poi andiamo avanti e ve ne dico una che riguarda un calciatore del benevento sto parlando di maggio ragazzi miei maggio sicuramente non è più quel calciatore che abbiamo conosciuto con con il napoli sta per terminare la sua avventura al benevento ma sta per cominciare la sua avventura avventura al crotone sembra proprio che che andrà da loro a rinforzarli allora adesso cominciamo un po a salire di livello parliamo della fiorentina dai parliamo della fiorentina perché non si è mai ambientato diciamo che ci si aspettava molto di più da lui un po ha deluso le aspettative e sembra che ragazzi miei all'ultimo potrebbe lasciare proprio la fiorentina sto parlando di osè maria caglie con direzione granata quindi non ci stanno puntando come pensavano che avrebbero fatto vabbè sono cose che possono accadere non è detto che uno riesce a trovare la quadra del cerchio cambiando cambiando squadra è ufficiale l'atalanta ha deciso che l'ammerz resterà da loro quindi le voci che lo volevano prima da una parte poi da un'altra poi da quell'altra no l'ammerz resterà all'atalanta quindi ufficialmente un rinforzo in più per l'atalanta ovviamente fino alla fine della stagione poi dove provvede calcio mercato estero dai un altro paio di calcio mercato estero poi passiamo a juventus inter milan napoli roma e via dicendo sergio ramos che ancora attualmente non ha rinnovato il contratto con il real madrid e nelle mire del pari san germain lo sappiamo per accaparrarselo a parametro zero la prossima stagione sarebbe fortemente finito anche nelle mire del manchester united io non so quanto sergio ramos possa scegliere il manchester united guardando anche la corte pari san germain secondo me in quel caso dovesse andare via da real madrid dovrebbe preferire il pari san germain però mai dire mai never say never ce ne sta un'altra allora questa è grossa sempre sul pari san germain in realtà dichiarazioni forti da parte di neymar e un messaggio anche per kilian bappé perché perché lui ha detto io voglio restare ma ha detto spero che resti anche kilian bappé dovesse andare via kilian bappé cioè praticamente ha detto non si sa se kilian bappé resterà al pari san germain io vorrei restare lo faccio solo se lo fa lui io l'ho letta così tra tra le righe quindi vediamo su un bappello sappiamo ragazzi miei real madrid barcellona è anche vero le crisi economiche le cose che post covid e via dicendo quindi tutto potrebbe restare così però insomma vediamo anche perché ci sono state anche delle voci dei messi al pari san germain eventualmente voi immaginatevi messi nei marram bappe che cosa potrebbe una cosa di quelli vabbè non ce voglio manco pensare allora ve ne dico un'altra sull'Atalanta ha praticamente preso covalenco e posso essere sincero sono curioso di vederlo all'opera perché l'Atalanta solitamente non sbaglia un colpo e quando prende calciatori è difficile lasciate stare il piccini della situazione non pronto fisicamente rispedito al mittente però solitamente l'Atalanta quando prende determinati calciatori riesce sempre a tirarci fuori il meglio di loro anche grazie a gasperini che sa come metterli in campo come allenarli e gli trasmette quella determinata idea di gioco colpaccio del parma ragazzi questo secondo me è un colpaccio dopo dennis man dennis man gabbo man praticamente arriva anche zirk zì questo questo secondo me ne sentiremo parlare veramente tanto viene dal bayern di monaco prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro se ne parla molto molto bene quindi parma abbastanza scatenato e se non sbaglio anche bani ha preso ecco lo scrivo qua perché me l'ho dimenticato non mi è ritornato in mente e parma scatenato che può provare a salvarsi a tutti i costi quindi è normale che sia così parma e torino visto che stiamo parlando di parma fortemente interessati a rugani ricordiamolo rugani attualmente in prestito in francia e potrebbe appunto spostarsi in direzione parma e torino juventus ovviamente che vuole provare a piazzarlo in realtà a titolo definitivo vorrebbe per monetizzare ma soprattutto anche per risparmiare sul suo sul suo ingaggio secondo me per parma e torino rugani sarebbe un colpaccio veramente niente male passiamo al napoli allora napoli che difficilmente opererà sul calcio mercato da qui a stasera quando terminerà però ci sono state delle voci pazzesche su gattuso avete sentito ieri lo sfogo in diretta di gattuso se l'è presa un po con de laurentis non mancandogli di rispetto ha detto io gli porto rispetto dice però è stata gestita male la situazione allenatore il comunicato di de laurentis per rinnovare la fiducia a gattuso diciamo che è stato fatto uscire secondo lui l'ho letto tra le righe un po troppo in ritardo e lui ha detto praticamente ha fatto capire che non mi tengono ma alla fine della stagione probabilmente mi manderanno via e non gli è piaciuta come è stata appunto gestita tutta questa situazione tra l'altro lui ha detto io ho ricevuto tante proposte ma gli appuntamenti non mi sono presentato perché non mi sembrava giusto nei confronti del napoli parlare con altre squadre mentre sono l'attuale allenatore come andrà a finire probabilmente gattuso da qui fino a fine stagione sì difficilmente rinnoverà e poi chi lo sa quel che accadrà rinnovo di donnarumma su chanoglu non so nulla però si dice che siano molto più vicine le parti per un rinnovo di donnarumma aspettatevi qualche buona notizia entro questo mese questo è quello che sta trapelando allora vediamo un po' un po' quando ho un goccio d'acqua e mi sono stato morito a sede io come sempre bevo 10 litri d'acqua a giorno sono veramente peggio d'endromedario allora l'udinese ha preso BRAF dal Manchester City prestito più diritto di riscatto a 11 milioni di euro se non sbaglio è un classe 2002 ragazzi e si dice che sia uno dei prospetti più interessanti europei in circolazione udinese che solitamente con questi colpetti può sorprenderci e non poco situazione inter allora c'è il punto interrogativo giaco sanchez ma probabilmente salvo ribaltoni dell'ultima ora e spero non avvengano giaco resterà alla roma giaco resterà alla roma e sanchez resterà all'inter ma c'è un altro ma il punto su ericsson sembra che sia stato tolto definitivamente dal mercato almeno per questa sessione di calcio mercato quindi difficilmente ericsson andrà da qualche parte e si dice che conte sia disposto a farlo giocare di più e che quel gol su punizione contro il milan diciamo abbia rimesso un po' un po' tutto in gioco e abbia fatto ripensare l'inter ad antonio cazzaro reynolds è un nuovo calciatore della roma terzino destro proveniente dal dallas 19enne pagato 7 milioni di euro strappato alla juventus o meglio roma che ha alzato l'offerta da 6 a 7 la juventus ha offerto 6 alla fine la juventus ha deciso di non rilanciare ne parlerò in un video dedicato anche il torino è scatenato ragazzi anche il torino è scatenato perché prende mandragola e sanabria sanabria c'è al covid quindi poi effettuerà quando gli passerà tutto insomma le visite mediche ma torino che vuole provare a rinforzarsi ovviamente colpo in ottica salvezza la juventus piazza un ottimo colpo in uscita si libera di un contratto importante come quello di chedira che va allerta a berlino e si dice che farà un tentativo in extremis per scamacca situazione scamacca un po particolare non so come andrà a finire però si dice che la juventus all'ultimo ci voglia provare proprio per rinforzarsi in ottica ovviamente futura per questa stagione vediamo se ho detto tutto ho detto assolutamente tutto 3500 mi piace regà e st'estate non appena st'estate insomma appena chiude il campionato e riapre il calciomercato torna la nuova serie nuova serie edizione 2021 estima vi piace commentate un'idea iscrivetevi a entrambi i canali per i visori ciao regà